La Regione Toscana punta su istruzione e formazione professionale, stanziando 27 milioni e 200 mila euro per l'anno scolastico 2017-2018 e per quello successivo. Un modo per continuare la lotta intrapresa dalla Regione contro l'abbandono scolastico precoce, valorizzare le alleanze formative, creando sistemi di collaborazione fra mondo della formazione e mondo della scuola, come ha sottolineato l'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco. In Toscana l'abbandono scolastico dal 2011 al 2015 è calato circa del 5%, ma bisogna fare di più e dei 27 milioni stanziati, 16 saranno destinate ai percorsi per i drop out di studenti che nei primi due anni delle superiori hanno lasciato la scuola. Per dare quindi una seconda chance, una seconda opportunità ai ragazzi che si sono allontanati da scuola per far metterli in grado di riavvicinarsi alla formazione e di prendere una qualifica che ricordiamoci è il primo titolo di studio più basso che ci chiede anche l'Europa. 3 milioni e mezzo saranno messe a disposizione delle scuole professionali che fanno conseguire la qualifica in sussidiarietà, un sostegno all'offerta formativa per renderla più coerente con le esigenze del territorio e del mondo del lavoro. Altri 8 milioni di euro saranno impiegati per la realizzazione di percorsi di formazione professionale. In modo che la formazione professionale possa essere una scelta possibile per i ragazzi anche dopo la fine delle scuole medie. Quindi qui ci mettiamo quasi 8 milioni di euro per i percorsi triennali a qualifica e per il quarto anno per il diploma professionale. C'è poi il capitolo della formazione continua per chi già lavora, a giorni uscirà il bando per voucher, per manager, per promuovere la formazione sulle innovazioni necessarie per competere nel mondo dell'economia digitale. Altro avviso di formazione sarà invece per gli imprenditori per affrontare l'industria 4.0.